Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI dove per lavori di miglioramento della sicurezza sul viadotto del Turbone sono possibili disagi tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina in entrambe le direzioni. La statale 330 è chiusa in località Albiano Magra nel comune di Aulla in provincia di Massa Carrara a causa del crollo del ponte sul fiume Magra. Il traffico è deviato con indicazioni segnalate in loco. A Firenze fino al 1 settembre lavori di ampliamento di via Panciatichi con divieti di transito sulla direttrice composta dalla stessa via Panciatichi e via dello Stecuto, chiusura anche per via della Ghiaccia. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!